Come ti chiami? Cristiano. Michela Tommasino. Quanti anni hai? 16. Ho 17 anni. Che scuola fai? CAPAC. Frequento la scuola CAPAC, che è un istituto politecnico del commercio e del turismo. Quale corso frequenti? Riparazione veicolo motore. Io seguo il corso per diventare tecnico della ristorazione. Se tornassi indietro, rifaresti la stessa scelta? Sì, perché avendo perso un anno in un'altra scuola di meccanica mi sono reso conto che questa scuola ha una formazione migliore rispetto alle altre. Probabilmente se tornassi indietro rifare la stessa scelta perché comunque mi ha fatto maturare molto sotto l'aspetto lavorativo e è molto valida come scuola perché fin da una giovane età ti indirizza nel mondo del lavoro. Animale preferito? Lupo. Però non la metto, vero? Il mio animale preferito probabilmente è il leone. Sì, il leone. Qual è la cosa che preferisci della scuola? Le ore in officina. È che c'è molta libertà. Quale vorresti fosse il tuo lavoro in futuro? O il meccanico? Lavorare in una pasticceria? O se si potrà aprirne una mia? Il tuo punto forte a livello professionale? Reparto motore e cambio gomme. Non mi manca la voglia di fare. Materia preferita? Meccanica. Cucina. Fai un urlo. Il più forte che hai sentito a scuola. La cosa che preferisci fare in laboratorio? Dirigere un piccolo gruppo nello svolgere l'attrita. Fare i dolci. La cosa che meno ti piace fare in laboratorio? Ricevere ordini dai miei compagni. Pulire. Spiegaci nel modo più veloce possibile come si fa la carbonara. Allora, far bollire l'acqua. Nel frattempo in una ciotola mettere uovo, pepe, sale e acqua di cottura. Poca. No. Escolare la pasta e mischiare il tutto. Con la pancetta. Si mette a bollire l'acqua. Si sala e poi si butta la pasta. Mentre la pasta cuoce, si prendono le uova, si separano tuorli e albumi. E prendendo i tuorli si aggiungono al pecorino. Mentre si mette il guanciale a sgrassare e a diventare croccante in una padella. E una volta che la pasta è pronta, si scola, si unisce al guanciale per dargli più sapore. E infine fuori dal fuoco si aggiungono i tuorli e il pecorino. Spiegaci nel modo più veloce possibile come si cambia una ruota. Tolgo la volta dalla macchina, tolgo la valvola, stallono, alzo la gomma dal cerchio, faccio girare l'estensionario e la tolgo dal cerchio. Non ne ho idea. Penso che non ne ho proprio idea. Cibo preferito? Pizza. La pizza. Modello di auto preferito? Mustang EcoBoost. Porsche Cayenne. Due motivi per cui consiglieresti questa scuola a qualcuno? Avendo provato un'altra scuola mi sono reso conto che i professori sanno spiegare molto meglio di altri professori e che nei momenti difficoltà ti sono aiutori. Ci sarebbero tanti motivi per cui consigliare questa scuola ma i due principali sono che se hai voglia di lavorare, se hai sveglio riescono davvero a aprirti una grande porta verso il mondo del lavoro e la seconda è che ci si diverte, cioè non si passa un giorno al Capac dove non ci si diverte. Saluta. Ciao. Saluta. Bocciore.